Grazie a tutti. Inoltre a Cagliari l'attenzione della Commissione Sanità del Consiglio regionale in attesa della discussione sulla delibera di giunta che ridefinisce la rete ospedaliera della regione Sardegna per i prossimi anni. Giovedì programmata, grande manifestazione a Cagliari organizzata dai principali sindacati a livello provinciale. C'è preoccupazione tra i lavoratori del centro residenziale anziani di Viale della Resistenza dopo il passaggio dalla KCS alla Seriana 2000 che si occuperà dei servizi nella struttura fino al giugno del 2019. Giunta in redazione la lettera di uno dei dipendenti che lamenta possibilità gli agli stipendi, intervento in merito anche di Forza Italia. L'Università di Sassari si conferma al terzo posto in Italia tra i medi e atnei statali secondo la classifica Censis Repubblica 2017-2018. Per il quinto anno consecutivo dunque l'Università sassarese è al primo posto con architettura sopra il Politecnico di Milano, Venezia, Juva e il Politecnico di Torino. Ben ritrovati telespettatori di Catalan TV, lo avete sentito dal sommario, apriamo il nostro telegiornale parlando di sanità e con il principale emendamento sostitutivo formulato dai sindaci dei 23 comuni del distretto socio-sanitario di Alghero e inoltrato a Cagliari all'attenzione della competente Commissione Sanità del Consiglio regionale in attesa della discussione sulla delibera di giunta 6 del 2015 che ridefinisce la rete ospedaliera della regione autonoma della Sardegna per i prossimi anni. Nella rimodulazione geografica degli ospedali in Sardegna si chiede di prevedere il presidio ospedaliero di primo livello di Alghero Zieri in sostituzione del nodo della rete ospedaliera regionale con la contestuale istituzione della rianimazione. Il documento firmato dai primi cittadini dei 23 comuni del distretto tende a correggere anche in servizio immunotrasfusionale la prevista emoteca e ridefinisce la lungodegenza nei presidi territoriali collegati, cioè Ittiri e Tiesi. Tra gli obiettivi del riordino infine contempla la ridefinizione complessiva dell'offerta ospedaliera nella città di Alghero con il finanziamento per la realizzazione del nuovo ospedale, così come inserito nel piano sanitario regionale vigente. La proposta di modifica ampiamente dibattuta nelle scorse settimane in occasione di diversi incontri del distretto col direttore generale dell'aslunica della Sardegna Fulvio Moerano e alla presenza dei consiglieri regionali del territorio ricalca la proposta unitaria avanzata dai 66 sindaci della provincia di Sassari e dalle commissioni sanità dei centri maggiori con l'unico obiettivo di garantire il diritto alle cure mediche e sanitarie di qualità ad un ampio territorio altrimenti penalizzato, scusate, da segnalare anche che giovedì è in programma la grande manifestazione a Cagliari organizzata dai principali sindacati a livello provinciale. E parliamo ora del centro residenziale Anziani perché come detto nei giorni scorsi sarà la Seriana 2000 ad occuparsi fino al 30 giugno del 2019 dei servizi all'interno della struttura. Abbiamo però ricevuto la lettera di uno dei dipendenti che lamenta possibili tagli agli stipendi dei lavoratori in merito è intervenuta anche Forza Italia. Per salvare il posto di lavoro di un cuoco con famiglia a carico gli altri due colleghi si sono dovuti e hanno voluto tagliare le ore e passare da 35 a 30 ore settimanali. Sarebbe questa una delle situazioni venutesi a creare con il passaggio di consegne tra la KCS e la Seriana 2000 nel centro residenziale Anziani. A raccontarla in una lettera uno dei dipendenti che ha chiesto di restare anonimo. La cooperativa vincitrice del bando nel progetto che riguarda gli infermieri ha pensato di aggiungere la figura della caposala ma per retribuirla ha deciso di tagliare 4 ore settimanali ad ogni infermiere pari a 20 ore mensili che equivalgono a circa 200 euro. È la denuncia del firmatario della lettera. Se si considera che la KCS garantiva agli infermieri circa 90 euro di buoni pasto mentre l'attuale cooperativa non le riconosce parliamo di circa 300 euro in meno presentando un contratto che parla di 38 ore ma che in realtà ne contempla 32 e per raggiungere le ore come gli altri bisogna sperare nelle malattie e ferie altrui è la sua denuncia. Si sono salvaguardati i posti di lavoro ma non la sopravvivenza dei lavoratori con famiglie annesse pertanto speriamo nell'aiuto di chi potrà darci una mano e far valere i nostri diritti scrive ancora. In merito c'è da registrare la presa di posizione del gruppo consigliere di Forza Italia per i dipendenti del centro residenziale per anziani di Alghero si profilano riduzioni della retribuzione e tempi cupi per gli ospiti vediamo un orizzonte di servizi non all'altezza delle loro necessità scrivono in una nota Maurizio Pirisimi che le paese annunzio Camerada tralasciando per il momento le illegittimità consumate nel procedimento all'attenzione dell'anticorruzione quella giudicata la seriana possiamo definirla una gara errata perché non tende alla qualità del servizio ma solo a risparmi di spesa con tagli delle ore dei lavoratori, riduzione delle ore di lavoro e della retribuzione da un minimo di 200 ad un massimo di 400 euro mensili denunciano i tre azzurri che parlano di una situazione al limite della sopravvivenza e insostenibile che graverà su tante famiglie che non potranno poi pagare rate di mutuo o adempiere agli impegni finanziari assunti anche per i loro figli secondo i consiglieri di Forza Italia emerge anche un atteggiamento di seriana non in linea col capitolato ci attendiamo che il sindaco intervenga in tempo reale per salvaguardare il diritto dei lavoratori ad una retribuzione dignitosa anche imponendo il rispetto delle norme del capitolato occorre fargli recuperare quel minimo di serenità d'animo necessaria per partecipare alla gestione di delicati servizi a favore di anziani che rischiano di essere danneggiati all'interno di una situazione difficile e complessivamente sconnessa nella gestione dei rapporti di lavoro chiudono Pirisi, Paese e Camerada che ricordano l'inerzia del sindaco anche in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti del servizio scuola bus e ora parliamo del via libera del Consiglio regionale al disegno di legge sulla destagionalizzazione dei flussi turistici si attendono ora le linee guida dell'Aggiunta regionale soprattutto per capire quanto spetterà ad Alghero ma intanto in molti commentano questo importante passaggio abbiamo intervistato in merito anche il presidente di Azione Alghero Marco Di Gangi Vi libera il disegno di legge sulla destagionalizzazione dei flussi turistici può rappresentare una boccata d'ossigeno anche per Alghero anche se ancora bisogna conoscere le linee guida Esatto, sì intanto bisogna sottolineare come sul sostegno ai voli low cost ancora la Giunta regionale non abbia in realtà fatto nulla vediamo quali sono le conseguenze a partire dallo scorso anno proprio derivante dalla mancanza di una politica di sostegno del low cost per quanto riguarda questa legge che è stata approvata recentemente dal Consiglio regionale bisogna sottolineare che le aspettative ci sono e sono tante dobbiamo certamente aspettare di capire quali saranno i criteri che la Giunta si è lasciata a disposizione per ripartire le risorse ricordiamo che si tratta di 40 milioni che andranno ripartiti tra l'aeroporto di Cagliari, di Olbia e di Alghero noi confidiamo che anche l'amministrazione comunale in questa fase eserciti adeguate pressioni politiche per fare in modo che ci sia una compensazione che consenta ad Alghero di recuperare maggiori risorse rispetto agli altri scali perché gli altri scali stanno viaggiando a pieno ritmo mentre l'aeroporto di Alghero, bisogna ricordarlo per tutta una serie di scelte oggi patisce una forte contrazione del traffico che noi confidiamo possa in qualche modo essere rilanciata anche tramite questa legge che non basta però ovviamente, ci vuole altro La maggioranza consartore ha espresso soddisfazione ha rimarcato come questo risultato sia stato ottenuto anche grazie alle azioni fatte e messe in campo nell'ultimo anno Ma che esprima soddisfazione è legittimo e condivido la soddisfazione anche se ripeto con molta cautela perché vedremo quello che succederà Condivido meno il fatto che questa maggioranza attraverso Sartore si ascriva il merito si attribuisca il merito di qualcosa che in realtà non gli appartiene anche perché voglio ricordare che la maggioranza in Consiglio Comunale ad Alghero fino praticamente a luglio del 2016 per oltre un anno ha taciuto, è stata in silenzio addirittura non ha voluto discutere una mozione dell'opposizione proprio a tutela dell'aeroporto di Alghero e lo stesso sindaco da questo punto di vista ha iniziato a muoversi ad assumere iniziative quando purtroppo i buoi erano tutti scappati e c'era ben poco da fare per cui se in questa fase ci fosse da parte dell'amministrazione e della maggioranza in Consiglio Comunale ad Alghero una pressione politica per fare in modo che le risorse di questa legge in buona misura vengano usate per compensare quello che si è perso troveranno sicuramente il sostegno della città anche il nostro Ci spostiamo a Maria Pia arriva dal Comune la nota nella quale viene spiegato che il Tribunale di Sassari nella causa civile di primo grado promossa dal Comune di Alghero con il patrocinio dell'Avvocato Stefania Sanna con sentenza del 30 giugno del 2017 a firma del giudice Deiana ha riconosciuto la proprietà pubblica di un'ampia porzione di terreno nella zona di Maria Pia la più estesa dell'intero comprensorio circa 40 ettari con soprastante fabbricato rurale distinto in catastro al foglio 50 nei mappali 242-240 parte dei quali confinanti con la strada Alghero Fertilia e il complesso del Palazzo dei Congressi da aree di pertinenza ordinato agli attuali occupanti il rilascio immediato dei terreni e il pagamento in favore dell'amministrazione comunale delle spese processuali il Comune di Alghero ha fornito prova adeguata del titolo dominicale posto a base della domanda diretta al rilascio del terreno in oggetto titolo su cui peraltro non sono state sollevate contestazioni scritto nella sentenza parla di decisivo passo avanti per vedere definitivamente riconosciuta all'ente la proprietà di terreni dal grande valore ambientale e paesaggistico l'assessore Aldemani O'Gavino Tanchis mentre per il sindaco si tratta di un'ottima notizia per la collettività l'odierna decisione del Tribunale premia il grande sforzo dell'amministrazione nel garantire finalmente la legittima proprietà pubblica di aree ed all'enorme potenziale turistico e ambientale ha sottolineato Mario Bruno ci lasciamo c'è la pubblicità e ora parliamo delle polemiche scopiate per l'annuncio fatto dal sindaco Mario Bruno di voler intitolare una via a Bud Spencer durissimo d'aga l'ex assessore Bamonti ha chiesto invece di ricordare la figura del canonico Michele Urjas a entrambi ha risposto più o meno direttamente il sindaco stesso Alghero dedicherà una strada all'indimenticato Bud Spencer con la speranza che l'esempio sia seguito in tutta Italia le parole pronunciate dal sindaco alla presenza delle figlie di Carlo Pedersoli nel corso di una cerimonia a Roma hanno alzato un nuovo polverone il più duro è stato forse il consigliere comunale del PD Enrico Daga che ha sottolineato come a San Giovanni non abbiano descritto l'evento in Algherese in compenso dice fa questi numeri che non c'entrano un fico secco con Alghero la sua identità riconoscibilità diversità incredibile siamo all'apoteosi della vacuità è uno sberleffo continuo alle cose serie alle priorità e alle necessità secondo l'ex assessore consigliere comunale Alberto Bamonti invece quella di Bruno è una scelta dal sapore troppo opportunistico quindi lancia una proposta mi appello al sindaco alla sensibilità di tutti coloro che hanno a cuore la storia di Alghero e della sua catalanità affinché nella toponomastica venga dedicata una via alla prestigiosa figura del canonico Michele Urgeas archivista della diocesi che ha trascritto innumerevoli e pregevoli documenti che hanno consentito di far conoscere la storia della nostra città diversa è stata la tempestività manifestata nel promettere pubblicamente di dedicare una via alla memoria dell'attore Bud Spencer sicuramente personaggio di rilievo nella storia del cinema italiano a entrambi ha risposto più o meno direttamente con un post su facebook lo stesso primo cittadino per fortuna ha scritto Bruno tra i compiti del sindaco non c'è quello dell'attribuzione dei nomi delle vie c'è un'apposita commissione toponomastica che decide collegialmente credo che una città moderna e internazionale debba comunque accogliere e valorizzare personalità illustri locali ma anche prestigiosi e significativi punti di riferimento nazionali e mondiali e questo già avviene in città qualche giorno fa a Roma invece il presidente del Fair Play associazione benemerita del CONI nell'attribuire il premio di capitale del Fair Play nel Mediterraneo per Alghero mi ha chiesto di rendere omaggio al grande atleta e attore Carlo Pedersoli di fronte alle figlie del mitico Bud Spencer e a campioni olimpionici quali Maffei Sensini ed altri ho detto che anche le città italiane dovrebbero ricordare magari dedicare una via a questo gigante buono simbolo del Fair Play dello sport nella professione e nella vita come sta venendo in altre città d'Europa a cominciare dalla Germania Carlo Pedersoli nel corso della carriera da notatore è stato il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero il 19 settembre 1950 oltre a essere stato più volte campione italiano di nuoto stile libero e staffetta nel corso degli anni si è impegnato anche a sostenere finanziare enti di beneficenza per bambini fra cui il fondo Scholarship Spencer ad Alghero deciderà la commissione toponomastica precisa Bruno come sempre tuttavia questa tensione ha suscitato il richiamo della stampa nazionale e l'interesse di molti compresa la famiglia di Bud Spencer che presto verrà a trovarci in città poi concluso coincisa invece la controreplica di Bamonti se come lui dice sulla toponomastica non decide si chiede perché si è impegnato pubblicamente a Roma l'Università di Sassari si conferma al terzo posto in Italia tra i medi atenei statali secondo la classifica Censis Repubblica 2017-2018 anche quest'anno è stata elaborata una classifica della qualità della didattica delle lauree triennali magistrali a ciclo unico suddivise per gruppo disciplinare per quanto riguarda le lauree triennali per il quinto anno consecutivo l'Università di Sassari ha il primo posto con architettura sopra il Politecnico di Milano Venezia Juve e il Politecnico di Torino un dato positivo dunque per il Dipartimento di Architettura di Alghero troppo spesso bistrattato ricorderete certamente la battaglia di docenti studenti e non solo per un giusto riconoscimento e soprattutto un adeguato contributo a livello economico al pari di altre sedi decentrate siamo primi fra tutti gli atenei italiani per internazionalizzazione e comunicazione servizi digitali e strutture questo invece il commento del Rettore Massimo Carpinelli in merito ai dati generali rispetto all'anno scorso ha aggiunto l'Ateneo ha conquistato due punti in più passando da 95,8 a 97,8 punti un risultato non scontato tenuto in un contesto sempre più competitivo nel quale tutti gli atenei stanno lavorando molto per migliorarsi l'incremento peraltro riguarda anche le immatricolazioni con un più 19,5% rispetto allo scorso anno siamo tra i primi 5 atenei in Italia per aumento del numero dei primi immatricolati ha precisato anche il Rettore e domani mercoledì 5 luglio alle 21 la sala conferenze della chiesa di San Francesco ospiterà un interessante incontro organizzato dal terzo ordine carmelitano in collaborazione con la libreria il labirinto Mondadori e il centro artistico culturale Il Chiostro dal titolo lavoratori interrotti un'analisi di una determinata tipologia di lavoratori vittime del disagio e malessere causato dal modo attuale in cui il lavoratore stesso è costretto a svolgere la propria mansione diversi relatori ed esperti che interverranno tra questi il dottor Gianfranco Petulà che esporrà i dati reali l'informativa dell'ufficio dell'impiego padre Marco Nuzzi guida spirituale del tocco italiano e anche la dottoressa Marisa Castellini che in veste di assessora illustrerà le attività in nato in tal senso dall'assessorato ai servizi sociali sono previste inoltre le presenze del sindaco Mario Bruno di Don Giuseppe Curcu che è il direttore della Caritas di Ocesana e di Don Angelo Cocco cancelliere Vescovile e di altri modererà l'incontro Vittorio Nonis facciamo l'ultima pausa per la pubblicità poi parliamo anche di sport con la partecipazione alle finali nazionali del torneo misto di Volley Wisp svoltosi lo scorso fine settimana a Rimini si è conclusa definitivamente la stagione agonistica 2016-2017 per la polisportiva Web Project sotto rete Alghero una stagione che va in archivio sicuramente con il segno positivo 4 sono state le gare giocate dai catalani nella bella cornice romagnola di Rimini dove lo scorso fine settimana si sono tenute le finali nazionali del torneo misto di Volley Wisp 2 vittorie e 2 sconfitte di cui un altai break risultati che sono stati utili al raggiungimento dell'obiettivo prefissato prima della partenza ovvero migliorare il settimo piazzamento dello scorso anno e classificandosi al quinto posto assoluto a un passo dalla semifinale e dalla zona podio le prime due gare giocate rispettivamente contro Venezia e Bari sono state vinte entrambe dagli algheresi nettamente col punteggio di 2-7-0 andando a perdere poi altrettanto nettamente contro la favorita nonché vincitrice del titolo e pluriscudettata a Firenze sconfitte in dolore che fa comunque accedere ai quarti di finale i sottoretini in questo scontro da dentro fuori i sardi hanno incontrato Modena squadra esperta ma che ha dovuto sudare più del previsto per accaparrarsi la semifinale in una partita giocata a punto a punto sino al tie break finito poi col parziale di 15-13 per i continentali sconfitta amara quindi per mister Guido e i ragazzi ma parziale che portano gli algheresi a risultare la migliore tra le perdenti conquistando così in automatico la quinta posizione non è stato per niente semplice ha raccontato Mondino De Martis capitano e schiacciatore della squadra il caldo e la stanchezza era tanta all'inizio eravamo carichi e siamo riusciti a far bene poi ai quarti la stanchezza fisica si è fatta sentire e con qualche errore nostro in meno ora staremo parlando anche di altro ma va bene così ci siamo divertiti abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello di migliorarsi e cosa molto importante è che siamo riusciti a incutere timore ad avversari blasonati e guadagnarci rispetto a livello nazionale ora guardiamo avanti e se tutto andrà bene siamo pronti per riprovarci l'anno prossimo con magari un obiettivo ancora più goloso in questo fine settimana ad Alghero rappresenta il maestro Seung Ho Park ovvero un personaggio di spicco per l'Apkido internazionale il maestro insieme ad un altro maestro Antonello Vacca ha tenuto due stage in due distinte scuole algheresi dove si sono svolti anche gli esami per il passaggio di cintura sabato pomeriggio in occasione del primo dei due stage nella palestra Centro Taekwondo e Apkido Alghero abbiamo realizzato alcune interviste assistito alla consegna di una targa da parte del Panathlon Club Alghero proprio al maestro Park alla presenza anche del governatore Lello Petretto riconoscimento anche per il maestro Vacca io vado in Corea dal 98 conosco il maestro Park da quel periodo e dieci anni fa abbiamo deciso di portare l'Apkido in Italia in varie città d'Italia compreso la Sardegna Alghero Sassari e quindi per lui è un piacere divulgare questa disciplina in Italia diciamo questo è in poche parole questo che ha voluto dire quanto dura questo stage e che cosa ha fatto? allora oggi facciamo un'ora e mezzo due ore di stage e dopo faremo gli esami tutti gli anni con la presenza del maestro si fanno gli esami per il grado facciamo il grado per la nuova cintura qui a Alghero ci sono due centri dove si pratica l'Apkido uno è questo e uno è sempre qua in città ma abbiamo altri centri in Sardegna oltre a Sassari o Zieri o che in altre parti da Sardegna a Nuolo oggi visto i valori dello sport delle arti marziali e in questo caso specifico dell'Apkido che sono i valori orientali comunque della lealtà del rispetto per l'avversario il Panathlon di Alghero consegna un riconoscimento al maestro Park e al maestro Vacca per questa loro diffusione delle arti marziali a livello internazionale loro sono portatori di valori sani appunto quali correttezza fair play e lealtà e per questo vengono riconosciuti anche dal Panathlon Club Alghero e lo consegna Mario Daga al maestro Park al maestro Antonello Vacca per la sua attività che è anche il responsabile nazionale della federazione italiana Apkido questo non dobbiamo dimenticarlo è un valore sardo che abbiamo molto importante qui e restiamo sullo stesso argomento perché le immagini che vedrete ora invece si riferiscono all'altro stage di Apkido svoltosi domenica scorsa nella palestra a Warang Academy sempre ad Alghero nelle foto ancora il maestro Seung Ho Park e il maestro Antonello Vacca sotto gli occhi dei quali si sono svolti gli esami di passaggio di cintura in questa occasione fanno sapere i maestri Mauro Pintore Paolo Cartamantiglia titolari della palestra il da Russino è diventata la prima cintura nera femminile in Sardegna esami anche per Damiano De Rio Alessandro Piras Daniele Piras Franco Pirisi Federico Cartamantiglia e Giulio Piras ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale vi ringrazio per averci seguito vi lascio al meteo per domani arrivederci